...da lui, Milito, in mezzo all'aria, numero, Milito, Rete, Rete, Milito la Spagna vai, Milito la Spagna vai! Ringraziare, ringraziare sicuramente a questa gente, a tutto l'Inter, sia la società, il presidente, il mister, tutti, 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 per la fiducia, per tutto. Sono l'ora sotto l'anno scorso a volermi, io ho cercato di dare il massimo, ho fatto il massimo quest'anno, sono felice perché insieme ai miei compagni abbiamo raggiunto i travori importanti. Grazie Diego, te lo dico veramente anche da intervista, grazie. Zanetti, accelera Zanetti, va in percussione, Zanetti, ballone per Milito, 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 Rete, 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 Milito! Giocatore straordinario, sul filo del cuore gioco, servito dalla percussione di Zanetti, non ha avuto fretta, si è forzato il pallone avanti, coprendolo dal recupero degli avversari, di esterno destro mi sembra, adesso lo rivedremo da replay, sul secondo palo, niente da fare per Curci. Cerca, e la pari è buona per Diego, poi tra l'aria, Milito, Milito, il tiro, a gol, 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 a gol. Il Principe! Il Principe! Il Principe! Il Principe! È 1 a 0! Il Principe! È 1 a 0! Fante che c'era subito, si infila da uno spazio Milito, riesce a proteggere la pallone, Milito, 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 Milito! Principe Milito! 1 a 0! Sempre Milito, 20 gol al cascolato! Non sbaglia mai, Fabio, non sbaglia mai! Chi ha sbagliato il Mirz? La carina è vicino su questa palla, Milito quando vai così, si può da incrociare questo sinistro sull'altra palla. Ancora Snyder, Maicon è lì pro a destra, lo vede Snyder, colore per Maicon, cross passo, Milito, il fai dell'Inter! Il Principe! Il Principe! Il Principe! Il Principe! Il Principe! 1-2, pazzesco del mondo! Arriba Minuto su questo pallone, può puntare il brasiliano, attenzione, si propone che Pander... Minuto! Minuto! Extraordinario! Extraordinario! Grazie a tutti!